La composizione del miele. Ti sanno che il miele è un prodotto derivante dall'apicoltura. Ma molti lo considerano ancora un nettare dissolto nell'acqua. In realtà il miele è un prodotto di un processo biologico complesso definito fermentazione. La composizione include più di 300 elementi chimici e legamenti. Magari un altro prodotto naturale potesse avere la composizione così rica. Gli elementi particolarmente benefici per l'uomo sono, po le vitamine e SKR e requasito il gruppo B che fa bene ai capelli. Ti micro e i macroelementi, potassio, magnesio, toferro, zinco accelerano il metabolismo e fanno da materiale di costruzione per i capelli. Gli zuccheri organici rifrutta nuiscono ed energizzano i capelli. Ti fermenti preziosi come per esempio amilasi aiutano. Ad assorbire meglio il miele, le proteine e le altre sostanze proteiche che compongono i capelli di ben 80%. La cera d'api una sostanza plastica che crea sulla superficie del cappello un leggero velo. Una composizione così ricca permette di utilizzare il miele non solo nella cosmesi ma anche nella cura. Con questo si possono curare anche le malattie più gravi in quanto aumenta le difese immunitarie, ha il valore nutrizionale alto e si assorbe bene dall'organismo. Un fa interessante, se viene utilizzata la maschera per capelli al miele i componenti inefici di quest'ultimo riescono a penetrare attraverso la barriera idrolipidica e arrivare agli strati più profondi della cute. I inefici per i capelli I inefici per i capelli sono numerosi Utilizzato in modo frequente il miele può rigenerare anche i capelli molto danneggiati specialmente se viene accompagnato dagli altri componenti inefici scelti a seconda dell'obiettivo Il miele permette di Regolare la funzione delle ghiandole sebacee Eliminare la secchezza eccessiva del cuoio capelluto e la Forforumara Sanare le lesioni Curare le infiammazioni Combatte contro i batteri Curare le malattie cutanee Accelerare la ricrescita Dei capelli Prevenire l'alopecia Rinforzare i follicoli piliferi Garantire l'idratazione prolungata Donare la lucentezza ed elasticità ai capelli Questi non sono tenefici del miele Possiamo nominarli ancora ma sarebbe meglio provarlo Il modo più semplice è fare le maschere al miele per i capelli Le ricei migliori Le maschere per capelli al miele fanno bene a prescindere della composizione Il miele funziona bene accompagnato dagli oli Dal kefir e dalla panna adatta dagli estrai e dagli infusi delle erbe farmaceutiche Tra l'altro fa da tramite ai componenti inefici aiutandogli di penetrare profondamente nell'acute Conoscendo le caratteristiche degli altri prodotti si può ottenere una composizione maggiormente inefica Che permetterà di raggiungere gli obiettivi specifici Di sotto troverete alcune delle ricette più utilizzate Antiforfora più spesso la causa della forfora è il fungo o la secchezza eccessiva del cuoio capelluto A mezzo di miele si possono eliminare entrambi questi disturbi Ci vuole il tempo per vedere gli effetti Questa cura però è assolutamente sicura e può essere utilizzata anche in gravidanza e durante L'allattamento a differenza da molti farmaci che non si possono utilizzare in questi periodi Prendete un cchiaio di miele e aggiungete un cchiaio di glicerina A parte prendete 50 ml di la e diluiteci un cchiaino di argilla verde o bianca Unite due composti e applicate sulle radici Massaggiate delicatamente per 3 a 5 minuti Coprite e lasciate per 30-60 minuti Sciacquate con l'acqua tiepida senza lo shampoo Anticaduta per prevenire la caduta dei capelli è importante garantire il nutrimento necessario e migliorare lo stato del cuoio capelluto Dove si trovano i follicoli piliferi? Per farlo si può utilizzare la maschera vitaminica con l'uovo Il tuorlo d'uovo contiene la sostanza nefica ovvero la lecitina che accelera i processi intercellulari e stimola la ricrescita dei capelli Prendete uno tuorlo e sbattelo con un cchiaio di miele fino a tenere la schiuma Aggiungere delle gocce delle vitamine A, E, B12 liquidi e della strada l'oe Mescolare bene il tuo e applicare sulle radici Dopodiché pettinate bene le lunghezze Questa maschera va tenuta sulla testa almeno per un'ora, nel caso di una notevole caduta, anche per tala notte Sciacquare con l'acqua tiepida senza lo shampoo Per la crescita a causa dell'inquinamento e dell'alimentazione sbilanciata Molti si lamentano del fatto che i capelli crescono più lentamente Soprattutto chi vuole i capelli spessi e sani È molto difficile influenzare sulla densità dei capelli in quanto è dovuta da igieni Ma comunque le maschere al miele permettono di Risvegliare i follicoli addormentati e farli funzionare meglio Per questo devono contenere oltre al miele, la polvere di senape, il peperosso o il su di cipolla o d'aglio Eccolo un esempio di una maschera al miele e cipolla Prendete una cipolla e grattugiatela Avvolgetela pure a con della garza e spremete il suo Prendete uno tuorlo e sbattelo con un chiaio di miele e aggiungeteci un cchiaino di cognac Uniteto con il su di cipolla e applicate il composto ottenuto sulle radici e pettinate le lunghezze Non massaggiate il cuoio capelluto Coprite con la cuffia e lasciate per 10-30 minuti dipende dal bruciore Sciacquate con l'acqua tiepida senza lo shampoo Per togliere l'odore di cipolla sciacquate i capelli aggiungendo dell'aceto nell'acqua oppure con l'infuso di camomilla Per decolorare già il miele di per sé può schiarire i capelli ma questa caratteristica può essere migliorata ulteriormente fino a Sostituire il decolorante chimico addirittura Per esempio nel caso in cui bisogna togliere i residui e la tinta precedente o rendere il colore appena ottenuto meno intenso Chiaramente è difficile ottenere cambiamenti drastici in questo modo ma almeno si può schiarire di uno a due toni senza danneggiare maggiormente i capelli Per preparare il decolorante naturale prendete uno bicchiere di kefir, cucchiaio di miele, cucchiaino di cannella macinata e il su di metà limone Mescolate bene gli ingredienti e applicate il composto sui capelli Se avete i capelli lunghi aumentate le quantità mantenendo naturalmente le proporzioni Coprite la testa Più tempo agisce la maschera migliore e feo decolorante si ottiene Può essere lasciata anche per talanotte Sciacquare con l'acqua tiepida con un po' di shampoo Le feocheratina Le feocheratina è un trattamento simile a quello alla cheratina che effettuano i pieri Grazie a questo si possono rigenerare i capelli molto secchi e danneggiati Restituisce ai capelli la lucentezza sana e la morbidezza Su ogni singolo capello viene creato un velo di gelatina grazie al quale le sostanze nutrienti del miele Che possono rimanere più a lungo dentro il capello Per le feo migliore l'odore più gradevole al composto vengono aggiunti degli oli essenziali I capelli devono essere puliti, pettinati e leggermente bagnati Preparate la gelatina sciogliendolo in acqua con un cucchiaio di miele aggiunto Riscaldate il composto bagnomaria al fuoco lento non superando la temperatura di 60 os Aggiungete 5-10 gocce dell'olio essenziale di rosa, rosmarino, ilangilango lavanda e applicate il composto sui capelli aiutandovi con un pennello Coprite la testa con una cuffia e un asciugamano Per un effetto migliore riscaldate utilizzando il phon Lasciate agire il composto per 20-30 minuti dopodiché sciacquate con l'acqua tiepida senza lo shampoo Dopo questo trattamento i capelli si perinano bene, chi luccicano e si prestano facilmente per una piega Potete ripetere il trattamento ogni 10-14 giorni Le controindicazioni Purtroppo è molto diffusa l'allergia al miele e agli altri prodotti d'apicoltura Questa è dovuta alla concentrazione alta delle sostanze attive che accelerano i processi nel corpo Perciò prima di utilizzare il miele fate una prova allergica Oltre all'allergia il miele ha le seguenti controindicazioni Di capillari molto fragili o allargati, la pressione molto alta La psoriasi e alcune altre malattie cutanee Il diabete tipo 2 e 3 L'asma bronchiale La febbre Durante la gravidanza con cautela e solo dopo la prova allergica Come scegliere il miele? Chiaramente per ottenere i risultati migliori bisogna utilizzare i prodotti di qualità Andiamo a scoprire come si fa a scegliere un miele di qualità Le caratteristiche principali del miele naturale Pesa molto in un barattolo di un litro entra quasi 1,5 kg di miele È denso Si cristallizza Non ci deve essere la schiuma sulla superficie Né le bollicine dentro Per controllare la presenza dell'amido nel miele si può utilizzare lo iodio Mettetene una goccia e vedete Se il miele non cambia il colore vuol dire che è naturale Se diventa blu sarebbe meglio non utilizzarlo La maschera al miele permette di rigenerare anche i capelli molto danneggiati Essa restituisce la lucentezza Riduce l'effetto crespo Cura le punte sfibrate e rinforza le radici Ricordatevi che nonostante tuo beneficio occorre non abbondare con il miele È sufficiente fare le maschere una volta alla settimana In altri giorni basta fare la cura quotidiana ovvero lavare con gli shampoo appropriati Utilizzare i balsami, idratare e proteggere Dal sole e dal vento fare il massaggio del cuoio capelluto Grazie mille per la cura quotidiana ovvero lavare con gli shampoo appropriati